Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione, ho il piacere di avere in studio il direttore generale della ULS1 Dolomiti, Adriano Rasi Caldogno, che saluto e che ringrazio per la partecipazione, anche perché questi sono periodi nei quali incalzano le molte attività, anche se in fase, per fortuna, per tutta la struttura discendente, mi pare, vero? Grazie, sì, diciamo che cominciamo a vedere una prospettiva anche di ottimismo, i dati diciamo sono sempre di giorno in giorno sempre più confortanti. Allora, partiamo però con un argomento che non sia il coronavirus o con due riconoscimenti che sono arrivati all'ULS1, uno è stato risonato da poco, un premio di 30 mila Euro circa, per aver raggiunto un obiettivo nel 2018, un riconoscimento che è arrivato dalla Commissione regionale, insomma erano molti che dovevano dare una valutazione. Ma come ogni anno, anche il 2018 è stato oggetto di valutazione, vengono assegnati all'inizio dell'anno da parte della Giunta regionale una settantina di indicatori, di obiettivi che devono essere perseguiti da parte delle aziende. Questi obiettivi riguardano sia la componente sanitaria, certamente, quindi il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, l'appropriatezza delle prestazioni, la capacità di svolgere tutta l'attività di diagnostica e di visite specialistiche entro i termini dati, oltre naturalmente al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'azienda e quindi tutte le componenti dell'agire dell'azienda sanitaria. Sono obiettivi che sono assegnati al direttore generale e diciamo con soddisfazione possiamo dire che nel 2018 la nostra azienda ha conseguito sicuramente una performance particolarmente positiva con 95 punti e qualche decimale su 100 punti che è il massimo raggiungibile. Questo indubbiamente è fonte di soddisfazione per tutte le componenti della nostra azienda. Anche perché la macchina è complessa? La macchina è complessa, sono oltre 4.400 dipendenti più tutti i collaboratori e questo questo riconoscimento naturalmente è il frutto di un grande lavoro, difficile e complesso, ma comunque i risultati sono questi. Se non è nel suo stile, ma diciamo che è uno di quei famosi sassolini nella scarpa questo? Ma no, non è un sassolino, anche perché diciamo sono già... Che uno si è tolto? No, sono già alcuni anni che siamo sempre su dei livelli di eccellenza per quanto riguarda i punteggi e quindi la rispondenza a un dirigente vengono assegnati degli obiettivi ed è la soddisfazione anche di riuscire a in qualche modo guidare e indirizzare una macchina così complessa al raggiungimento di tutti questi. Questo è quanto. Probabilmente anche nel 2019 questo risultato potrebbe essere conseguito alla luce del risultato economico di fine anno che ha visto addirittura un utile che per un'azienda sanitaria è diciamo difficilissima. Diciamo che anche nel 2019, come in verità anche negli anni passati, abbiamo conseguito un utile di circa 950 mila euro. È una cifra insomma non banale ma comunque rapportata a oltre 470 milioni di attività svolta diciamo è il segno più che altro della capacità di tenere un equilibrio complessivo dell'azienda. Nonostante tutte le problematiche, la prima fra tutto è proprio quella del personale, dei medici che mancano. Indubbiamente diciamo su questo credo che siano 5 anni che continuiamo a attirare l'attenzione su questo tipo di problema. Naturalmente ogni mese, ogni anno che passa il problema si fa sempre più acuto, c'è un numero naturalmente consistente di specialisti che vanno e andranno in pensione e il ricambio ahimè che non è stato programmato in alcun modo da parte diciamo degli accessi alle scuole di specialità in particolare di alcuni anni o sono, ci sta portando sempre di più a una situazione di criticità. Ho parlato della difficoltà di reperire personale medico perché il Covid con sé ha portato però anche alcune novità, diciamo che ha allentato alcune morse, ad esempio i ragazzi che possono entrare a fare la pratica, tutte cose positive? Ma diciamo indubbiamente questa esperienza del coronavirus è stata un'esperienza veramente fortissima per tutta la sanità italiana, in particolare comunque per quanto ci riguarda la sanità della nostra regione e anche della nostra azienda è stata diciamo un'esperienza che per un certo periodo ha veramente cambiato radicalmente anche proprio tutto l'assetto operativo dei nostri dipartimenti e delle nostre unità operative. In pochissimi giorni si è dovuto diciamo così riallocare le risorse, le persone hanno dovuto sostanzialmente essere dedicate a questo flusso molto importante di malati affetti dal Covid da un lato e dall'altro un'altra attività che praticamente non esisteva ma è stata diciamo così è stata creata e messa a regime una macchina che è arrivata a quasi 100 persone nel dipartimento della prevenzione per la gestione del tracciamento per la gestione e quindi le indagini epidemiologiche per ogni caso, la gestione dei tamponi e diciamo così tutta la gestione sia dell'informazione che poi di tutte le persone in isolamento a casa. Vuoi positivi vuoi invece soltanto in isolamento perché contatto stretto di un soggetto positivo. Siamo arrivati al punto di picco ad avere quasi 1400 persone da seguire contemporaneamente tra fine marzo e i primi di aprile e quindi è stato veramente uno sforzo ingentissimo. Un rapporto di gran lunga superiore a quello che di solito si ha tra persone che si rivolgono alla struttura e personale curante. Assolutamente sì, veramente un lavoro immenso. L'unità di crisi del dipartimento di prevenzione doveva fare in modo che non crescesse la problematica però c'è stata tutta la difficoltà di governare quel che già era avvenuto, quindi su due fronti vi siete battuti. Il primissimo fronte è stato quello naturalmente di adeguare la possibilità di ricoverare sia in terapia intensiva in primo luogo le persone che già avevano dei sintomi gravi, significativi, sia anche le altre persone in area semi-intensiva vuoi in pneumologia, vuoi in malattie infettive, nell'area medica in generale, che affluivano a dei ritmi veramente molto sostenuti nella prima fase e quindi si è dovuto espandere in maniera veramente molto rapida la possibilità di ospitare tutti questi malati che affluivano con un ritmo veramente incalzante. Bisogna e credo che sia doveroso dare atto della grande professionalità e anche della grandissima disponibilità che è stata dimostrata fin dalle primissime battute da parte di tutto il nostro personale che veramente si è speso senza risparmio per far fronte a una situazione realmente eccezionale e inedita. L'allarme non cessa anche se sono diminuiti i contagi, i ricoveri, però si rimane sempre in uno stato di preallarme anche in vista di quello che potrebbe accadere? Certamente, diciamo che l'allarme in senso stretto ormai si sta veramente affievolendo però questo non vuol dire che l'emergenza possa considerarsi archiviata tutt'altro nel senso che è necessario continuare ad avere i comportamenti di responsabilità individuale e collettiva come comportamenti da un lato e dall'altro dobbiamo continuare a monitorare la situazione con i tamponi e con tutte le altre attività che sono state, diciamo, messe in pista proprio per monitorare con grande attenzione l'andamento epidemico augurandoci che naturalmente quest'autunno poi di non dover far fronte a dei colpi di coda oppure a un rebound di questa epidemia. Ma nel vostro lavoro cos'è cambiato? Perché per oggi, per pensiero primo all'interno dell'ospedale sicurezza sulla igienizzazione, tutte le procedure da rispettare cos'è cambiato dal Covid ad adesso in più? Beh, adesso e credo che tutti, diciamo, i cittadini che hanno avuto modo di usufruire dei servizi ospedalieri e sanitari in questo periodo hanno notato naturalmente che il filtro per poter accedere all'ospedale è molto più articolato. E resterà ancora? Eh, resterà fin tanto che sarà necessario. Tutte queste misure sono, diciamo, delle misure di prevenzione per evitare nel maggior grado possibile la possibilità che il virus possa entrare all'interno dell'ospedale e quindi un filtro, diciamo, il più stretto possibile a tutela naturalmente dei pazienti, a tutela degli utenti e a tutela ovviamente anche di tutto il personale che vi lavora. Se da una parte si può tirare un sospiro di sollievo, dall'altra c'è il recupero di tutte le analisi, interventi che sono rimasti indietro. Qui il lavoro è enorme perché tre mesi in condizioni di costrizione creano una gestione forse impossibile, non lo so poi... Ma diciamo che abbiamo avuto circa 12.000 prestazioni prenotate che sono state congelate tra i primi di marzo e i primi di maggio. L'attività è ripresa il 4 maggio e gradualmente, molto gradualmente, con prudenza e anche con queste nuove regole che impongono, si pensi soltanto a tutta l'attività di sanificazione imposta tra una visita e l'altra e quindi i tempi che si dilattano in maniera significativa, tutto questo ha provocato 12.000 prestazioni che sono rimaste in qualche modo congelate. Adesso gradualmente stiamo riprendendo l'attività sia in termini di volumi e attualmente nel complesso siamo circa a un 75% grosso modo rispetto all'attività prima di febbraio e dall'altro c'è un programma adesso di recupero delle prestazioni che non sono state effettuate. Il supporto che avete avuto dall'esterno, protezione civile, con i controlli, vi ha aiutato molto? Sicuramente in tutto questo periodo abbiamo innanzitutto sentito un fortissimo sostegno da parte di tutta la popolazione e questo si è tradotto anche in gesti di grande generosità declinata in ogni modo e dall'altro indubbiamente la protezione civile ci ha dato un buon supporto per la gestione di tutta una serie di attività che sono state necessarie per la gestione degli accessi, per il supporto a tutta l'attività del Dipartimento Prevenzione e tante altre attività che naturalmente con le sole forze dell'azienda avremmo fatto una gran fatica a svolgere. Si riconosce il fatto di essere una persona schiva e molto discreta, lei però ha dovuto cimentarsi con l'esperienza social tutti i giorni. E' stato faticoso questo comunicare continuamente? Ma diciamo noi abbiamo iniziato dopo pochi giorni con un'abitudine direi quotidiana di dare tutte le informazioni riguardo all'evoluzione organizzativa da un lato e poi il quadro della situazione per quanto riguardava un po' i dati epidemiologici prima della nostra azienda e poi utilizzando i dati che Azienda Zero via via proponeva. Questo credo sia stata una dimensione anche sicuramente importante che è servita anche a dare a tutta la nostra popolazione la consapevolezza di quello che stava accadendo in tempo reale senza nessuna anche così distorsione o distorsione delle informazioni. Ecco, naturalmente poi con la fine del mese di maggio tutto questo si è andato via via fievolendo perché adesso stiamo entrando sempre di più in una normalità faticosa come dicevamo ma diciamo ormai quello al binario. In ogni esperienza c'è il momento migliore e il momento peggiore. Il momento peggiore dei 100 giorni qual è stato? L'inizio a metà? Ma diciamo abbiamo avuto una prima fase di anche di in qualche modo di grande preoccupazione rispetto anche ai ritmi di crescita di questa epidemia e qui indubbiamente c'è stata una grande preoccupazione con il timore di non riuscire come macchina a far fronte a tutto questo. E poi un secondo momento di grande preoccupazione è stato diciamo grossomodo nella metà di aprile circa con alcune crisi importanti di alcune case di riposo e noi come azienda sanitaria abbiamo dovuto intervenire in maniera molto robusta per diciamo sostenere per sostenere sotto il profilo sanitario alcune situazioni da un lato e farci carico anche di una serie di ricoveri necessari proprio per la fragilità degli ospiti e per evitare tutto questo ha consentito anche di evitare situazioni che purtroppo abbiamo visto in altri contesti hanno portato a dei risultati veramente drammatici. L'ultima domanda è la soddisfazione più grande oltre naturalmente alla risposta di tutta la struttura che va a merito dell'organizzazione in generale e di chi ci lavora. La soddisfazione direi più grande è stata anche di vedere quotidianamente anche delle risposte da parte delle persone veramente generose e molto spesso al di là anche delle aspettative. Questa è stata sicuramente una sorpresa, un elemento di soddisfazione sicuramente piacevole oltre anche a numerevoli esempi di generosità, di cittadini, di aziende e di un forte sostegno che abbiamo sentito in ogni momento. E c'è da augurarsi che prosegua questo anelito e questa comprensione della difficoltà del mestiere. Perché poi ci si dimentica, vero? Certo, poi diciamo abbiamo dei segnali per cui questo clima forse non può tranne anche durare molto molto a lungo, però indubbiamente credo che questa esperienza dovrebbe far pensare un po' anche a tutti i nostri concittadini quanto sia importante avere una sanità che funziona, delle persone che si dedicano con professionalità ma anche con un fortissimo impegno e direi complessivamente i risultati nella nostra regione, nella nostra provincia, insomma, siano un po' lì a testimoniarlo. C'è una capacità di risposta piuttosto veloce. Abbiamo risolvito il tempo a nostra disposizione, evidentemente non la curiosità di andare in approfondimento di alcuni temi, ma questo vuole la trasmissione grazie ad Adriano Rasi Caldogno, direttore generale della URSE numero 1, complimenti a lei e a tutta la squadra che ha lavorato con lei in questo periodo e sperando che non si ripeta naturalmente. E grazie a voi che ci avete seguito. Grazie. Grazie.